Oggi è il 28 dicembre, sta per finire l'anno. Quale modo migliore per accogliere il 2018? Quello di farci fare un piccolo vademè, come dal nostro primo ospite di oggi, Sasa Salvaggio. Buongiorno, grazie di essere qui con noi stamattina a quest'ora. Grazie per la levataccia. Esatto, non perché te è prestissimo, perché chi non è abituato e come fa le ore più piccole per lavoro, diciamo che alzarsi così presto è un tuono dall'aria, visto anche le condizioni di maltempo di stamattina in Sicilia. Allora, dicevamo un po' di consigli su come accogliere il nuovo anno. Sì, intanto parliamo del Natale che è passato, perché le famiglie hanno speso meno degli altri anni. Quest'anno c'è un po' di crisi, come tutti sapete, e sono da capire che quest'anno c'erano le scadenze, c'era il bollo, l'Imu, l'IRP, l'IRP, l'IRS, l'IVA, l'addizione comunale, le ACCISE, l'ATARES. Insomma, oggi l'unico che riesce a arrivare a fine mese è il calendario, perché poi oltre non possiamo andare. Però, dove non si va da spese è sul mangiare. In Italia, pensate che per il Cenone di Capodanno, siamo tutti pronti per questa mangiata ulteriore, Ulteriore si spenderanno oltre 3 miliardi di euro, in Sicilia 3 miliardi di euro li spendiamo solo per l'antipasto, perché poi abbiamo un bel cernone per noi molto lungo. Diciamo che il cibo per noi è irrinunciabile, non so di zionato che cosa hai fatto in questi giorni. Il 24 abbiamo fatto a base di pesce, il 25 a base di carne, il 26 poi in teoria si fa il brodino per smaltire quello dei giorni precedenti, in Sicilia ogni anno succede il miracolo che il brodino per Santo Stefano si trasforma in lasagna, non si sa come mai ogni volta c'è questo miracolo in Sicilia. Per non parlare degli avanzi del cibo, in Sicilia con gli avanzi del periodo di Natale e Capodanno c'è gente che ci arriva fino a Pasqua e non sto scherzando, soprattutto quelli che la mattina si alzano e dicono domani mattina mangio leggero, bio, poi appena ti svegli e ti trovi, il pandoro del giorno prima, le melenzane del giorno prima, la cassata, che tra l'altro riposate, è pure più buona che fa, la lascia, uno che comincia a dire è peccato, uno poi mangia naturalmente. Al solito, diamo invece un avviso per i nuovi nati nel 2018, sai che ora è tutta la stampa, siamo tutti pronti. Aspettiamo di sapere chi è il primo che nasce, allo scoccale della mezzanotte. Bravo, infatti si è stato rinnovato dal governo il bonus, beh beh, pertanto tutte le mamme che devono partorire nei prossimi giorni, aspettate il brindisi di mezzanotte, se no ci perdete i piccioli, io vedo le scene già, guardi sta appartenendo, dottore aspetti 5 minuti che scatta la mezzanotte, se no ma pizzo il bonus. Oh, poi parliamo del brindisi di Capodanno, come tradizione non esagerate, mi raccomando nel bere state attenti, pensate che l'anno scorso in Sicilia un signore è stato ricoverato in coma etilico perché aveva bevuto 30 litri di vino solamente in una sera. Adesso sta bene, però il sangue sta ancora di tappo, perciò dico io non esagerate, non esagerate. E poi, in conclusione, augurandovi un buon 2018 è un buon anno, non esagerate con i botti, abbiamo visto che c'è una campagna da parte di alcune amministrazioni. Ne abbiamo parlato anche ieri qui in trasmissione. Una cosa importantissima, che sono pericolosi per le persone e sono fastidiosi per gli animali, perciò mi raccomando, proprio se non ne potete fare a meno, proprio di fare i botti, visto che è tradizione, abusate con le lenticchie. Ecco, così, fate i botti naturali, dico a secondo è, aprite le finestre, dico non si sa mai, così insomma festeggerete alla grande questo 2018 che speriamo sia fortunato per tutti. Guardiamo un po' alla nostra città, Palermo, questa città che vive, si appresta a diventare capitale della cultura, proprio con il 2018, qual è l'augurio che vogliamo fare? Ma guarda, secondo me è una notizia assordinaria, anche io nel mio lavoro, io ne approfitto nel 2018, farò uno spettacolo che si chiama Pupiata Siciliana, anzi hashtag Pupiata Siciliana, perché seguiamo le mode in cui farò uno spettacolo, penso dove sarò vestito da pupo siciliano, proprio avrò un'armatura alla Franco-Franchi proprio origine, proprio perché parliamo di storia, di tradizione anche nello spettacolo, farò più attenzione alla lingua siciliana, alla nostra gestualità. E' il momento anche di mettere veramente in evidenza la grande storia, la cultura, maggiore alla nostra cultura, che è questa città immensa. Tu intanto il 31 sarai in Casarai, a Rai 1, ai suoi tignoti. Esatto, il 31 sarò ai suoi tignoti, insomma speriamo di fare una bellissima puntata, come si dice, chiudiamo col botto e insomma speriamo di fare ridere i telespettatori di Rai 1. Vogliamo salutare intanto i nostri telespettatori? Come no, un saluto, un abbraccio, soprattutto in questi giorni, voglio fare veramente un in bocca al lupo a tutte le persone che presto ci seguono e che purtroppo sono state beccate, forse la metà dei siciliani, dall'influenza. Perciò pronta guarigione, mi raccomando per il cenone, non esagerate, io non dico di non mangiare, però evitiamo di fare scorte di biochetase, gaviscono, e insomma voglio dire passiamo serenamente questo 2018 e attenzione con i botti, perciò da Sasa, buon anno e buon 2018 a tutti i siciliani.